Una campagna elettorale particolare la sua, lei sono alcuni giorni che la sospende in sostanza temporaneamente per portare avanti la sua attività istituzionale. Sì, le ore che sono servite per partecipare ieri all'inaugurazione dell'anno giudiziario presso la Suprema Corte di Cassazione per quattro anni dopo l'apertura del primo Presidente sono stato io come Vice Presidente del CSM insieme agli altri vertici della giurisdizione, il Ministro della Giustizia, il Presidente del CNF a inaugurarlo, ci tenevo, mi premeva a sottolineare la grande rilevanza di quella cerimonia come quella di oggi all'Aquila in questo palazzo di giustizia così bello, così importante, ristrutturato, partecipazione la mia che vuole sottolineare anche l'attaccamento ai valori di giustizia, di onestà, di trasparenza nell'esercizio delle funzioni pubbliche, dei poteri pubblici che io certamente adotterò quale Presidente della Regione. L'Abruzzo è al centro di una campagna elettorale anche molto forte, molto intensa, ha molti big, chiamiamoli così, della politica, da Berlusconi agli esponenti Movimento 5 Stelle, si stanno facendo vedere? È un'invasione senza precedenti, quella alla quale assistiamo, l'intento è evidente, i cittadini abruzzesi sono chiamati ad eleggere il loro Presidente, i loro consiglieri regionali, chi dovrà guidare e governare questa regione. Loro, i leader nazionali di centrodestra del Movimento 5 Stelle vogliono trasformare questa campagna elettorale in una campagna politica, molto politicizzata, mettendo in ombra i loro candidati, perché evidentemente la comparazione può porre più di un dubbio tra gli elettori. Io con i miei 232 candidati giro l'Abruzzo, incontro le persone, porto avanti il progetto di governo che noi abbiamo, rivendico l'autonomia dell'Abruzzo rispetto a questo tentativo di sviare l'attenzione e di politicizzare un confronto che invece riguarda il futuro della nostra regione.